Loredana Cannata per Vipando, come stai? Sto molto bene, grazie. E voi? Noi benone, ogni volta che ci si incontra si sta sempre bene. Un altro appuntamento mondano, stasera scende in pista la solidarietà. Il tuo rapporto con il mondo della beneficenza, com'è? Il mio rapporto con il mondo della beneficenza è piuttosto stretto. Io ho un'associazione che si chiama Sesso Sole, con cui collaboriamo con le comunità di indigeni zapatisti del sud del Messico, in Chiapas. Facciamo piccole case di salute, corsi per infermieri, abbiamo attrezzato una piccola clinica e porto i soldi legati in pancia di persona, quindi devo dire, è un rapporto molto stretto. E questo veramente ti fa onore e complimenti. Loredana, però, vista la bella stagione, ormai la primavera è quasi alle porte, qualche progetto nuovo di lavoro, ma anche, che ne so, affettivo c'è? Allora, di lavoro c'è la ripresa delle riprese di un caso di Coscienza 4, adesso ci trasferiamo a Trieste per finire le riprese e poi forse un viaggio in Messico per portare dei soldi o, chissà, Cuba, è vicina. E il cuore invece batte? Il cuore batte, ma è una montagna russa e non so ancora quanto mi piace l'amore, ci sto pensando, però batte. Ce lo farei sapere? Sì. Allora, Loredana Cannata, grazie, è sempre un piacere incontrarti. In bocca al lupo per tutto e un saluto agli amici di Vipando. Crepi, un bacio grandissimo. Ciao.